L'esercizio che vi propongo oggi è la progettazione concettuale e logica di un database per un'azienda sanitaria locale. Esercizio semplice, finalizzato a ripasso e recupero. Non vi leggo il testo perché lo leggerò frase per frase quando farò lo svolgimento, ma nel caso in cui vogliate leggerlo, potete fermare il video un momento, e leggere il contenuto. Consideriamo la prima frase. Gli ospedali sono caratterizzati da un codice identificativo, dal nome e dall'indirizzo. Rappresentiamo questa informazione con un'entità ospedale che ha un identificatore univoco ID e due attributi, nome e indirizzo. I dipendenti di ciascun ospedale sono caratterizzati dalla matricola, univoca all'interno dell'ospedale, dal cognome, dal nome, dalla data di nascita, dall'indirizzo e dal numero di figli a carico. Possiamo rappresentare queste informazioni in due modi diversi. A seconda che si consideri l'indirizzo come attributo atomico, cioè senza nessuna struttura interna particolare, o come attributo composto con una struttura composta da altri attributi che sono, come potete vedere, la via, il numero civico, il capo, il comune e la provincia. Evidenzio univoca all'interno dell'ospedale perché devo ricordarmelo dopo, perché naturalmente questa frase non è un qualche cosa di poco significativo, anzi molto importante. Vado avanti. I dipendenti sono suddivisi in medici, impiegati e amministrativi di cui si conosce la mansione e dagli infermieri. Per i soli medici si vuole conoscere la specializzazione. Io ho rappresentato il tutto utilizzando una gerarchia. Dipendente è l'entità genitore che ha tutti gli attributi, matricola, cognome, nome, data nascita e indirizzo, numero figli. E poi ci sono tre sottoentità o entità figlie che sono medico, impiegato e infermiere. E solo medico e impiegato hanno degli attributi in più rispetto all'entità genitore, che sono specializzazione e mansione. Vi ricordo che in una gerarchia le entità figlie ereditano dall'entità genitore tutti gli attributi. Che cosa sono T, E, T ed E? Beh, ve lo ricordo perché anche questo l'abbiamo già affrontato. T sta per totale e per esclusiva. Ci dà informazioni in merito a questa gerarchia. Totale significa che se io vado a prendere tutti i medici, tutti gli impiegati, tutti gli infermieri, ottengo tutti i dipendenti dell'ospedale. In questo contesto, quindi, l'insieme di queste persone costituisce l'insieme totale dei dipendenti. Esclusiva significa che un medico non potrà mai essere un impiegato, non potrà mai essere un infermiere, un impiegato non potrà essere un medico e così via. Ossia, questi tre insiemi non hanno degli elementi comuni, quindi la loro intersezione è vuota. Andiamo avanti. L'ospedale è suddiviso in reparti caratterizzati da un codice, un nome, il numero di posti, letto, disponibili. In rosso vedete una forma verbale che ci fa capire che probabilmente c'è una associazione tra entità. In effetti c'è perché l'ospedale e il reparto sono correlate attraverso l'associazione suddiviso in, il nome è indifferente, potete usare qualunque nome. Quindi l'ospedale è suddiviso in reparti e adesso andiamo a vedere come specificare le cardinalità di questa associazione. Vi ricordo che la cardinalità è rappresentata mediante una coppia di numeri dove il primo rappresenta un valore minimo, il secondo il valore massimo, di che cosa? Delle occorrenze di un'entità che sono coinvolte nell'associazione, coinvolte dall'associazione. Quindi partiamo per individuare la cardinalità dall'entità ospedale e ci domandiamo, dato un ospedale, in quanti reparti è suddiviso? Minimo 1, un reparto sicuramente c'è, massimo n, dove n ovviamente non sappiamo quantificarlo correttamente, quindi mettiamo n per intendere che è un numero maggiore di 1. La cardinalità va messa quindi vicino all'entità ospedale, insomma vicino, io la metto vicino all'entità, qualcuno la mette vicino all'associazione, ma in ogni caso sta qui, su questo segmento del diagramma. Vediamo invece la cardinalità tra verso reparto, su reparto, e qui dobbiamo porci la domanda in modo inverso, dato un reparto, in quanti ospedali è collocato? Minimo 1, massimo 1, per cui la cardinalità la mettiamo qui, su reparto. Continuiamo. Per ogni reparto si conosce inoltre il medico, che ne è il primario, e i dipendenti che vi lavorano. Allora, sono due associazioni, andiamo a vedere quali. Intanto l'associazione lavora in, tra dipendente e reparto, e l'associazione primario, tra medico e reparto. Iniziamo da lavora in. Allora, dato un reparto, quanti dipendenti lavoreranno in questo reparto? Beh, al minimo 1, si spera, e al massimo n. Quindi 1n, la cardinalità che mettiamo qui. Dato un dipendente, questo dipendente, in quanti reparti lavora? Beh, normalmente lavora in un reparto. E quindi la cardinalità massima e minima coincidono, sono uguali a 1. Andiamo su medico, primario, reparto. Allora, un reparto ha sicuramente un primario, quindi la cardinalità sul reparto è 1,1. Qua invece vediamo che sulla cardinalità minima abbiamo 1,0, perché preso un medico, questo non è detto che sia un primario, quindi un medico è primario di 0, oppure al massimo un reparto. Ciascun reparto può gestire delle sale operatorie, di cui è noto un codice identificativo, qua, ID, il nome e il numero di tavoli operatori disponibili, nome, non tavoli. Ecco, abbiamo di nuovo una forma verbale può gestire, attenzione a questo può, perché ha un particolare significato, cioè significa che non è detto che un reparto gestisca delle sale operatorie. Quindi andiamo a inserire l'associazione gestisce tra reparto e sala operatoria e vediamo le cardinalità. Allora, data una sala operatoria, questa sarà sicuramente gestita da un reparto, quindi minimo 1, massimo 1. Se prendiamo un reparto, però, non è detto che questo gestisca necessariamente una sala operatoria, ecco perché la cardinalità minima è 0, però può gestirne anche più di 1, quindi la cardinalità massima è n. Dunque, siccome abbiamo terminato l'analisi del testo, ritorniamo su questa frase, tra parentesi, univoca all'interno dell'ospedale si riferisce a matricola. Ecco, qua ci troviamo in presenza di un'entità debole. Cosa significa entità debole? Analizziamo dipendente. Avrete notato che dipendente non aveva, e non ha tuttora, un identificatore univoco. E matricola non può identificare il dipendente, perché siamo in presenza di più ospedali. Ora, ogni ospedale userà un sistema di numerazione di matricole totalmente indipendente da quello degli altri, e immagino che, non sono molto esperta su questo, ma immagino che si inizi da una matricola 1, o 100, o non lo so. Comunque, la numerazione indipendente deve essere indipendente da quella degli altri ospedali. Quindi, questo significa che potrebbero esserci due ospedali che hanno dipendenti con lo stesso numero di matricola. Questo è il motivo per cui non è possibile utilizzare il numero di matricola come attributo identificante, quindi come identificatore univoco. In situazioni come queste, allora, è necessario andare a identificare il dipendente esternamente. Identificare il dipendente esternamente significa che la matricola sarà univoca solo all'interno del particolare ospedale, in questo caso, per come abbiamo costruito, l'R del particolare reparto. Quindi, il dipendente sarà identificato dalla matricola insieme al codice del reparto a cui appartiene, naturalmente ipotizzando che all'interno di ospedali diversi non esistano reparti con lo stesso codice, perché altrimenti ci ritroviamo in una situazione del tutto analoga. Ma non ho voluto rappresentare questo caso per non complicare troppo questo schema. Potete provare a farlo voi, cioè a rendere il reparto dipendente dall'identificatore univoco dell'ospedale, quindi con un approccio molto simile a quello visto con il dipendente. Dal punto di vista grafico, questa situazione si rappresenta facendo attraversare questo segmento da una linea che poi finisce e termina con un pallino pieno intersecando l'attributo che concorre a creare l'identificatore univoco insieme al reparto. Insomma, è più difficile spiegarlo che farlo. Lo vedremo bene più avanti quando passiamo allo schema logico. Ecco lo schema definitivo. Ospedale, suddiviso in reparti, il reparto gestisce sale e operatorie, nel reparto lavorano dei dipendenti che possono essere infermieri, impiegati o medici. Il medico può essere primario di un reparto. Questa è la variante nel caso in cui avessimo deciso di rappresentare l'indirizzo del dipendente come attributo composto. Ora bisognerebbe passare allo schema logico-relazionale, quello che poi ci permette di andare a rappresentare, a creare effettivamente il database. E' quello dove appunto mettiamo in evidenza quelle che sono le relazioni o le tabelle, perché ricordate che relazioni e tabelle rappresentano la stessa cosa, solo che relazione utilizzato nell'approccio teorico al modello relazionale, dove appunto non si fa riferimento esplicito al nome tabella. Allora, non possiamo al momento passare allo schema logico e fare questa traduzione, perché lo schema che abbiamo costruito non è immediatamente traducibile, va prima ristrutturato. Che cos'è che bisogna andare a ristrutturare? Beh, la gerarchia. Sicuramente la gerarchia bisogna trasformarla in qualcosa di diverso. Ci sono tre possibilità. O accorpiamo le figlie, l'entità figlie, nell'entità genitore, quindi togliamo medico, impiegato, infermiere e in un qualche modo riconduciamo le informazioni che trasportavano all'interno del dipendente. Un'altra soluzione è quella che permette di, ci consiste, nell'andare a eliminare invece l'entità dipendente, quindi l'entità genitore, mantenendo l'entità figlie. C'è poi ancora un'altra possibilità che consiste nell'andare a sostituire ogni diciamo ramo di questa gerarchia, ogni relazione di generalizzazione e specializzazione con un'entità più un'associazione. Poi esiste anche la possibilità di mettere insieme più cose con un sistema che possiamo definire misto. Questo è lo schema ristrutturato. Vedete questa prima parte identica allo schema precedente. cosa cambia? Cambia quello che vedete evidenziato in rosso. Allora il dipendente, la gerarchia è stata eliminata, gli attributi che erano presenti nell'entità figlie sono stati riportati nell'entità genitore dipendente. Questi attributi ve lo ricordo sono specializzazione e mansione. Vedete che vicino a entrambi gli attributi c'è o c'è una cardinalità. 01 che indica opzionalità. Infatti l'informazione sulla specializzazione sarà presente solo se il dipendente è un medico l'informazione sulla mansione sarà presente solo se il dipendente è un amministrativo un impiegato. In più occorre aggiungere un attributo che può avere qualunque nome io ho chiamato tipo che potrà assumere uno di questi tre valori medico impiegato infermiere anche questo formalismo questa notazione scusate medico impiegato infermiere tra parentesi graffe non è originale cioè non esiste se prendete un testo universitario o anche scolastico non la vedrete è una cosa che ho aggiunto io perché così almeno ci ricordiamo quali sono i valori che può assumere questo attributo per quanto riguarda l'altro schema proposto quello con l'attributo composto indirizzo bisogna fare un'ulteriore operazione di ristrutturazione perché gli attributi composti sono anch'essi non traducibili direttamente nello schema logico relazionale di conseguenza cosa dobbiamo fare dobbiamo decidere se mantenere solo i componenti dell'indirizzo quindi via numero c v co cap eccetera oppure se eliminare i componenti e mantenere solo l'attributo indirizzo attributo atomico quindi senza una struttura interna se scegliamo la seconda opzione ci riconduciamo lo schema precedente vediamo invece qui di seguito lo schema che otteniamo se scegliamo la prima opzione dobbiamo aggiungere ancora al dipendente tutti i componenti dell'attributo indirizzo mentre indirizzo ovviamente non lo mettiamo più quindi via non civico cap comune provincia che sono evidenziati in blu per distinguerli da quelli in rosso che derivano dalla ristrutturazione della gerarchia quindi sono stati aggiunti a dipendente mentre l'indirizzo quindi l'attributo indirizzo non c'è più ora possiamo passare allo schema logico relazionale quindi possiamo passare a fare una traduzione e farò vedere questo cioè vi farò vedere prima di tutto come si fa più che come si fa la prima operazione che farò sarà quella scusate intanto mi pappino la prima operazione che faccio è quella di andare a scrivere le relazioni riportando solo il nome dell'entità e degli attributi con pk indico la primary key cioè la chiave primaria e poi con fk invece indicherò le chiavi esterne per tutti gli aspetti teorici avete tutti i materiali di studio sulla piattaforma che utilizziamo per la formazione a distanza quindi non sto qui a ripetere i concetti fondamentali faccio una apra una parentesi questi video che io realizzo sono rivolti principalmente ai miei studenti però li pubblico su youtube perché li rendo pubblici appunto perché penso che potrebbero servire anche qualcun altro quindi non li voglio tenere segreti per me ai miei studenti è ovvio che potrei fare riferimento a cose che non sono nelle disponibili per tutti ma potete chiedermi io sono sempre disponibile a fornire i materiali i miei materiali sono tutti pubblici e normalmente hanno una licenza creative commons chiusa parentesi allora stavo dicendo che prendiamo questo schema adesso si vede un po' in piccolo ma penso che sia comunque sufficientemente comprensibile allora per ogni entità scrivo nome dell'entità e poi i vari attributi la convenzione è quella di andare a sottolineare l'identificatore univoco che qui nello schema logico questo qua a destra diventa chiave primaria quindi identificatore uguale chiave primaria nel nostro semplice caso ci tengo a precisarlo poi dovremmo occuparci della traduzione delle associazioni allora vediamo brevemente quali sono le due regole di traduzione anche qui si fa prima vederlo che a dirlo però allora una prima sono poi due le regole la prima è quella che trasforma l'associazione in una tabella aggiuntiva o relazione aggiuntiva scusate ma qua i due termini verranno usati in maniera voglio dire con lo stesso significato tabella o relazione anche se non è proprio corretto al 100% quindi creo un'ulteriore tabella in più e vado a inserire come chiave primaria di questa nuova tabella o relazione una chiave primaria costituita dall'unione delle chiavi primarie e delle due relazioni coinvolte nell'associazione queste due chiavi primarie che porto nell'altra in questa nuova tabella scusate diventano chiavi esterne la seconda regola invece consiste nell'andare a prendere la chiave primaria della relazione che corrisponde nello schema R un'entità che ha una cardinalità 1N e farla diventare chiave esterna nell'altra relazione quella correlata gli attributi seguiranno la chiave esterna ecco io mi rendo conto che enunciarlo in questo modo diventa complicatissimo quindi passo subito a farvi vedere l'esempio ma vorrei ricordarvi che l'applicazione di queste due regole dipende da tantissimi fattori e soprattutto da una cosa che noi non vediamo perché normalmente non si fa questa parte nella scuola secondaria superiore anche se molto interessante che riguarda l'analisi delle prestazioni quindi non avendo informazioni aggiuntive sulle quali basarsi per scegliere se una traduzione è migliore di un'altra seguiremo delle regole molto generali queste regole insieme ai vari esempi li potete trovare a questo link andiamo quindi a tradurre l'associazione suddiviso in ospedale reparto se guardiamo le cardinalità massime di questa associazione ad entrambi i lati vediamo che c'è da una parte un 1 dall'altra parte un n questo significa che l'associazione è di tipo 1 a molti e la chiave primaria di ospedale diventa pertanto la chiave esterna di reparto quindi prendiamo id di ospedale dove c'è uno n e lo andiamo a mettere come chiave esterna di reparto ospedale id ospedale ho usato i colori per farvi orientare meglio come per convenzione anche questo non è un formalismo riconosciuto universalmente decidiamo mettiamo un asterisco al fondo del nome della chiave esterna in modo tale da capire appunto qual è il suo ruolo traduciamo ora l'associazione gestisce reparto sala operatoria questa anche qui si può osservare che si tratta di un'associazione 1 a molti opzionale perché c'è una cardinalità minima sul reparto che è 0 anche in questo caso applichiamo la regola che trasferisce la chiave primaria di reparto all'interno di sala operatoria come chiave esterna quindi la chiave primaria di reparto dove c'è la cardinalità 0N diventa chiave esterna per sala operatoria ripeto la chiave primaria di reparto codice diventa chiave esterna per sala operatoria codice reparto come vedete si possono cambiare i nomi ho messo sempre l'asterisco traduciamo lavora in dipendente reparto allora qua bisogna fare attenzione perché c'è questa identificazione esterna cioè dipendente e un'entità debole si chiama così allora dobbiamo andare a prendere sempre un'associazione uno a molti prendiamo la chiave di reparto e la mettiamo dentro a dipendente però se guardiamo dipendente in realtà il codice del reparto già esisteva anche in precedenza vado un attimo su e faccio vedere codice reparto esisteva già proprio perché abbiamo fatto la traduzione tenendo conto del fatto che il dipendente è identificato in maniera esternamente l'unica cosa che dobbiamo fare quindi è andare a inserire questo asterisco che ci ricorda che si tratta di chiave esterna mentre il codice reparto e la matricola insieme costituiscono chiave primaria di fatti prima forse non l'ho evidenziato in maniera diciamo non l'ho proprio esplicitato che la chiave primaria del dipendente siccome dipendente è un'integra debole è costituita dalla combinazione della chiave di reparto più questo attributo matricola ora ci occupiamo della dell'associazione che si chiama primario tra dipendente e reparto questa è un'associazione di tipo 1 a 1 sto guardando le cardinalità massime però è opzionale in questo caso si applica sempre la regola che consiste nell'andare ad aggiungere un attributo come chiave esterna in una delle due relazioni però bisogna scegliere quale delle due utilizzare come destinazione della chiave esterna potete andare a leggere il documento che vi ho linkato in precedenza che vi spiega il perché adesso io adotto questa soluzione cioè andrò a mettere l'id del dipendente all'interno del reparto è più conveniente in assenza di altre informazioni perché limita il numero di campi vuoti quindi in reparto il codice del reparto ce l'abbiamo già vi ricordo che il dipendente ha come chiave primaria codice reparto e matricola quindi sono questi due i campi che io devo portare come chiave esterna in reparto l'unica cosa è che quindi aggiungo solo la matricola del dipendente l'unica cosa è che in questo caso la chiave esterna non è singola ma è composta è composta da due tributi codice e matricola dipendente siccome non esiste una particolare notazione per rappresentare questa chiave esterna composta io ho adottato questo metodo racchiudo tra parentesi quadre gli attributi che costituiscono la chiave esterna e poi metto l'asterisco fuori dalla parentesi quadra chiusa quindi qui abbiamo un codice che è chiave primaria di reparto ma che partecipa alla chiave esterna insieme a matricola dipendente che fa riferimento a quale altra tabella o relazione alla tabella relazione dipendente dove anche qui abbiamo una chiave primaria che è composta nel caso dello schema quello con ottenuto a partire dall'attributo composto indirizzo abbiamo una situazione del tutto simile alla precedente tradde per il fatto che il dipendente avrà un numero di attributi maggiore perché conterrà la via il numero civico eccetera eccetera bene abbiamo finito con questa esercitazione buona giornata a tutti